Ciao a tutti e a tutte, benvenuti sul mio canale e nel mio primissimo video youtube! Oggi ho deciso di fare un lookbook per la primavera, quindi troverete i brand di tutti gli outfit giù nell'info box. Se il video vi piace mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e... Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!